Ben trovati alle TG Medio Sport, grandi polemiche in Serie B con la giornata che si inaugura questa sera con l'anticipo tra Empoli e Avellino, sia il tecnico dell'Empoli Sarri che quello dell'Avellino Rastelli hanno parlato di campionato falsato. Perché? Perché i giocatori delle Palermo che invece giocherà lunedì in posticipo a Castellammare di Stabia alle 20.30 hanno di fatto usufruito e usufruiranno di tre giorni in più di riposo rispetto ai propri giocatori dell'Empoli. Una polemica lanciata da Sarri e che trova concorde ovviamente anche Rastelli. Ascoltiamo. Noi bisogna pensare alla partita e è chiaro che la situazione tra il calendario internazionale e la Serie B è una situazione bassanata perché dopo tutti gli episodi dell'anno scorso non si può in una settimana di date internazionali faggiare un anticipo della Serie B. Quindi mi sembra che questo sia un'umiliazione per gli sforzi economici di una società e sia un'umiliazione per il lavoro di 30 persone. Credo che sia normale e palese che sia una partita da giocare magari di sabato addirittura di domenica proprio perché il Palermo che ha la squadra dove ha maggior numero di nazionali è stata posticipata lunedì. Quindi credo che per par condicio anche le altre che magari in organico hanno tanti nazionali avrebbero potuto soffrire di qualche giorno in più di riposo. Hanno deciso così. Noi non possiamo fare altro che prenderne atto però sono d'accordo con Sarri. Era una partita da non giocare di venerdì. Dalle polemiche per il campionato di Serie B all'appello che Claudio Terzi, difensore del Palermo, fa ai tifosi non soltanto ovviamente per la prossima sfida in casa ma per tutto il campionato. Meglio di così, dice Terzi, non avremmo potuto fare. Non ho mai giocato a Castellammare quindi non lo so che tipo di sintetico sia. Sicuramente andiamo là per vincere, vogliamo vincere. Passa tutto dalla prestazione che faremo. Per quanto riguarda Cesena dove è l'altro campo sintetico è stata una partita un po' anomala perché comunque abbiamo giocato in dieci per più di un tempo e contro una squadra forte, uno scontro diretto e penso che comunque essere riusciti a portare a casa un punto sia stato importante quella partita. Sicuramente è un tipo di gioco un po' diverso perché la palla è la più veloce, gli appoggi, i rimbalzi del pallone sono diversi. Però visto che comunque abbiamo già affrontato squadre, abbiamo già giocato sul sintetico, sicuramente dobbiamo essere pronti a ogni evenienza. A volte tante squadre contro di noi, soprattutto in casa, giocano tutte dietro a linea della palla e comunque riuscire a non subire gol e comunque quando la sblocchi a non prenderlo è importante. Peccato perché sabato, subito dopo che l'abbiamo sbloccata, Gallano ha fatto con l'Euro goal. Le ultime due partite con Spezia e Bari l'abbiamo subito, adesso cercheremo di non prenderlo contro la Juve Stabia perché è bello essere comunque la migliore difesa ed è importante dare stabilità a tutta la squadra. La Juve Stabia comunque ha sempre fatto ottimi campionati, quest'anno purtroppo per loro sono partiti male e fanno fatica a riprendersi, però andare là a Castellammare è sempre difficile, comunque su un campo sintetico e sicuramente l'ambiente sarà caldo e quindi se sottovalutiamo questa partita partiamo già con le colpite sbagliate e non dobbiamo farlo. Da sottovalutare non c'è nessuno ma neanche da avere paura perché comunque solo rispetto di una squadra che nonostante comunque i punti in classifica è da rispettare e da approcciare con l'atteggiamento giusto. Abel per noi è un giocatore importante, fondamentale, speriamo che rientri, che comunque guarisca il prima possibile. Per quanto riguarda Di Bala comunque lui anche all'inizio dell'anno faceva bene, ha sempre fatto bene, si è sempre impegnato, purtroppo gli mancava questo gol e sono sicuro che da adesso in poi che si è sbloccato ne farà tanti altri. Comunque ci sono giocatori in rosa importanti come Lafferty, come Belotti, lo stesso Troianello, Malele che possono dare una mano e fare sentire meno l'assenza di Hernandez. TRMweb.it, nella sezione sport, tutti gli approfondimenti, tutte le notizie più interessanti della giornata. Ritroviamo ovviamente le polemiche con Sarri, campionato totalmente falsato, il Rastelli non esiste par condicio, ma soprattutto la notizia, è una buona notizia per il Catania, ci spostiamo in Serie A perché anche Cristiano Biraghi è stato convocato dal commissario tecnico della Nazionale Cesare Prandelli per uno stage dal 10 al 12 marzo con tanti volti nuovi, ovviamente fra i volti nuovi anche quello del terzino sinistro del Catania. sempre sulla sezione sport, il football americano con le due notizie che riguardano le squadre palermitane di seconda divisione, con i Sharks che hanno perso 16-0 dagli Elephants nella prima giornata di campionato, invece la vittoria dei Cardinals per 32-0 contro i Crusaders di Cagliari, proprio alla vigilia del derby palermitano, Cardinals e Sharks, si gioca al velodromo, lo si fa domenica alle 15, allora ascoltiamo, cerchiamo di conoscere anche un po' meglio questo sport, famosissimo chiaramente negli Stati Uniti, ma ancora un po' in ombra in Italia. Quest'anno abbiamo almeno una decina di nuovi inserimenti, abbiamo i soliti vecchi dell'anno scorso che si comportano abbastanza bene e insomma speriamo di farcelo, abbiamo fatto veramente 4 mesi, quasi 5 di allenamento pesante. È uno sport complicato, però è molto 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 divertente, è forse lo sport di squadra più divertente che esiste nel panorama dello sport mondiale. Soprattutto le scuole, le università, è il vivaio più, il bacino più importante, il football è una scuola di vita, non soltanto un gioco, è una scuola di vita e lo si vede perché molti di questi giocatori alla fine rimangono amici per la vita, questo è uno degli insegnamenti più grandi che il football ti dà. Quest'anno esordiamo per la prima volta al velodromo, di solito il nostro campo è stato, abbiamo un po' vagato in città, diciamo una ricerca di vari campi, quest'anno il Comune ci ha messo a disposizione il velodromo, anche se non è un impianto in condizioni eccezionali, però apprezziamo la buona volontà per venire incontro quest'anno alle squadre di vertice dei campionati che svolgono attività nel Comune di Palermo. Il nostro obiettivo è dare un'altra tipologia di offerta sportiva, il problema fondamentale è la gestione, avere risorse, trovare risorse economiche soprattutto, perché devo dire che in questi anni il seguito sportivo c'è stato, i ragazzi ci sono, partecipano tutti, ognuno si dà da fare, da questo punto di vista siamo soddisfatti, poi per tutto il resto cerchiamo di fare del nostro meglio. Vi ricordo che tutte le edizioni del TG Med Sport le potrete rivedere sul sito trmweb.it, non ci sono altre notizie, grazie per essere stati con noi e arrivederci. a Palermo, infoline 388 9088 192